Assessore Maria Teresa Sorrentino, siamo qui negli uffici dei servizi sociali. Sono giorni un po' di caos e di disagi per la gente relativamente alla questione dell'assegno di inclusione. Come stanno le cose? Allora, innanzitutto vi ringrazio per questa intervista perché ci permette anche un po' di raccontare alla città un po' di verità su questa questione dell'ADI, evitando le speculazioni che francamente non ci aiutano e non aiutano i cittadini. Sicuramente l'ADI, il servizio dell'assegno di inclusione, ha rappresentato una criticità per il nostro servizio che già vive una stagione piuttosto difficile. Quindi io non posso negare che non abbiamo avuto delle difficoltà e che non ci sono stati dei disagi per i cittadini verso i quali io francamente mi scuso, mi dispiace che le persone subiscano un disagio e debbano fare fatica per quello che è un loro diritto assolutamente legittimo. Però dall'altra parte devo raccontare per onestà di verità anche il grande lavoro che c'è dietro le erogazioni e i servizi come quello dell'ADI. Devo raccontarlo anzitutto per onestà nei confronti dei funzionali del nostro comune che vi devo dire con grande senso di responsabilità stanno facendo un lavoro eccezionale. Quando io sono arrivata l'anno scorso il comune aveva tre assistenti sociali. Questo la città lo deve sapere perché non è pensabile che un comune di 80.000 abitanti abbia tre assistenti sociali quando per legge ne dovrebbe avere al minimo 17. Capite bene che tre non possono fare il lavoro di 17. Che cosa stiamo facendo? Sicuramente stiamo lavorando alle assunzioni perché per me è inconcepibile che un comune così grande che ha i soldi dal governo per poter fare le assunzioni per due anni le assunzioni non siano state fatte. Si è stato bandito un concorso più o meno due anni fa sospeso per autotutela, rimasto nell'etere, bloccato mentre l'ufficio aveva le stanze completamente vuote. Siccome questa per me è una cosa gravissima io penso che questo la città lo deve sapere. Abbiamo a marzo, con una grande fatica, sbloccato il fondo povertà che ci permette di fare le assunzioni e adesso con il nuovo dirigente che è arrivato il mese scorso stiamo già lavorando a tutte le procedure per poter fare le assunzioni. Quali saranno i tempi per queste assunzioni? I tempi non glielo so prevedere, sicuro perché non mi occupo della gestione. Certamente quelli più brevi possibili. L'obiettivo è prendere quanti più assistenti sociali possibili. Abbiamo già programmati nel Piau e cercheremo di prenderli. Stiamo facendo anche dei conti economici perché l'obiettivo è prenderne quanti più possibile e tenerli quanto più a lungo possibile. Nel frattempo appena è arrivato il nuovo dirigente abbiamo fatto delle procedure di affidamento diretto per il servizio di segretariato sociale e di pronto intervento sociale per poter assumere nel più breve tempo possibile un po' di personale esterno che abbiamo assunto per un anno che ci aiuta in questa procedura dell'ADI. Al momento quante pratiche sono state espletate e quante ne restano da fare? Io per verità mi sono fatta dare un po' i numeri dall'ufficio e vi dico che le pratiche totali che abbiamo avuto ad oggi ovviamente parliamo di un servizio aperto quindi non è che la domanda si poteva fare solo ieri si potrà fare nell'arco del tempo abbiamo avuto totalmente 2600 domande circa abbiamo già lavorato circa 1300 domande quindi circa la metà delle domande che ci sono pervenute e adesso attualmente abbiamo in scadenza che sono già scadute circa 600 domande vi chiediamo di venire allo sportello soltanto se la vostra pratica o è già scaduta o è in prossimità di scadenza questo per una ragione molto semplice perché avendo poco personale ovviamente noi diamo priorità a chi ha l'urgenza relativa alla scadenza abbiamo fatto un avviso pubblico sulla pagina del comune e sulle nostre pagine social in cui abbiamo chiesto ai cittadini di presentarsi spontaneamente questo perché per una razio all'inizio mandavamo l'SMS ma all'inizio le domande non erano scadute siccome adesso abbiamo una mole di domande scadute significative naturalmente noi non possiamo dire chi sono i cittadini che devono venire per primi e quindi abbiamo aperto al pubblico in modo che tutti hanno la possibilità di venire abbiamo detto che lavoriamo al minimo 20 domande al giorno questo numero ci serve per darci anche un criterio organizzativo ma è anche vero che ci sono giornate in cui lunedì per esempio abbiamo lavorato 60 domande purtroppo le persone si sono presentate qui addirittura la sera prima o nel cuore della notte o alle prime luci del mattino questo però devo dire non è un'indicazione del comune nel senso che noi cominciamo a lavorare le pratiche alle 9 del mattino gli uffici aprono alle 8 e mezza per fornire i numeri poi mi rendo conto che c'è una corsa al panico e quindi le persone si presentano anche di notte però questa non è un'indicazione nostra il fatto che la pratica sia scaduta non significa che perdete il diritto all'ADI perché il diritto non vi viene revocato nel momento vi viene sospeso quindi appena fate il colloquio potete recuperare l'assegno vi viene ridato recuperando anche la quota che eventualmente non vi era stata ancora data per ragione della sospensione io penso che una buona comunicazione aiuta anche le persone a sentirsi un po' più tranquille e a pensare che noi stiamo facendo il massimo possibile